Un sincero benvenuto ai nostri telespettatori per questa nuova puntata di Soldi e dintorni, il format di Sicilia HD che trasmette sul digitale terrestre sui canali 195 e 511 e su 091 TV canale 631 e ora anche in streaming su www.siciliahd.it. I recenti fatti di cronaca hanno rimesso al centro dell'attenzione il sistema bancario italiano. I fatti di cronaca a cui ci riferiamo sono il salvataggio delle quattro banche del centro Italia con Banca Etruria e Cassa di Risparmio delle Marche in testa e delle conseguenze che tutta questa operazione sta comportando nel rapporto tra banca e cliente perché presso queste banche sono state vendute delle obbligazioni subordinate che sono dei titoli altamente rischiosi e sono state vendute allo sportello anche ad ignari sottoscrittori che hanno fidandosi del rapporto fiduciario che si ha con il direttore, gli impiegati anche in piccoli centri hanno sottoscritto delle obbligazioni ad altissimo rischio senza un adeguato avviso da parte delle banche che hanno collocato questi titoli diciamo per tappare i loro buchi di bilancio. Allora per parlare ovviamente partiremo da questo fatto di cronaca per estendere il ragionamento al sistema bancario siciliano il mercato creditizio e per chiederci assieme ai nostri ospiti che adesso passo a presentarvi se anche nel sistema bancario siciliano vi sono delle criticità ed eventualmente quali sono queste criticità. Allora per fare questa nostra conversazione abbiamo invitato ovviamente questa conversazione la faremo questa volta dal punto di vista sindacale quindi abbiamo invitato dei sindacalisti che sono Alessandro Callo per la FISAC CGL Salvatore Licastri per la UILCA e Gabriele Orsi per la FIRST CISL. Allora prima di dare la parola ai nostri ospiti e di porre loro alcune domande vorrei che la regia mandasse in onda la tabella numero 1. Allora banche UE venduti prodotti inadeguati a persone forse ignare e questa è l'accusa principale che viene fatta un po' da tutti ma che viene fatta dalla stessa Unione Europea nei confronti delle quattro banche che sono state salvate. E allora cominciamo con Gallo della FISAC CGL ma il pressing commerciale allo sportello è un punto critico del rinnovo contrattuale che si è avuto recentemente ma com'è oggi la situazione allo sportello? Buongiorno, ma sicuramente ritengo sia importante precisare un aspetto fondamentale che oggi il sistema bancario ha due componenti, al banchiere e al bancario. Io credo che il bancario sia in questo momento rappresenti l'argine alla richiesta pressante di collocamento di prodotti alle volte non perfettamente rispondente alle esigenze dei clienti. Quindi sposterei un attimo il paradigma, non vorrei che si facesse l'errore di pensare che il bancario che diciamo sua sponte proponga dei prodotti troppo rischiosi, così non è. E infatti parliamo di pressing commerciale. Proprio per questo io ritengo che in questa fase se non ci fosse stata la vicinanza, la professionalità degli operatori bancari forse i danni sarebbero ben più ampi di quelli che stiamo commentando in questi momenti. Allora, praticamente se un impiegato allo sportello di una banca decide di non vendere dei titoli perché non condivide la rischiosità o quantomeno non condivide il fatto che titoli rischiosi vengono vendute a categorie di risparmiatori non particolarmente avvertiti, che cosa succede a questo impiegato? È chiaro che il bancario è un impiegato e un dipendente e quindi è soggetto al vincolo gerarchico con la propria direzione che con queste spinte commerciali lo costringe alla vendita dei prodotti. Però è pure vero che ci sono un insieme di meccanismi di salvaguardia. Ogni cliente viene profilato con una procedura che si chiama MIFID e per ogni cliente ha un certo orientamento al rischio. Quindi è chiaro che il lavoratore sa benissimo se quel prodotto può essere venduto a quel cliente o meno. Talvolta però il cliente che non ha una grossa conoscenza del mercato economico finanziario viene invogliato dagli alti tassi di rendimento offerti da determinati prodotti. È chiaro che se parliamo di obbligazioni subordinate parliamo di un tipo di prestito la cui onorabilità è subordinata a tutto il resto. Quindi è chiaro che è l'ultimo prestito che viene pagato in caso di crisi dell'azienda. Sì, però voglio dire una cosa. Lei ha fatto cenno al MIFID, cioè alla profilatura del cliente. Ma molto spesso questo MIFID altro non è che un foglio da riempire, una formalità burocratica. Nel rapporto banca, cioè sportello, cliente, si fanno mettere soltanto delle crocette e basta. Probabilmente c'è qualcosa che non va anche in questo meccanismo, non crede? Probabilmente qualche lavoratore subisce la pressione commerciale, però è certamente un'eccezione. Tutto quello che è successo a banche etruri e banche marche non si può certamente imputare ai lavoratori, ma soltanto alle pressioni commerciali di un management che non doveva collocare queste obbligazioni subordinate presso gli investitori istituzionali, investitori istituzionali, cioè le altre banche, in buona sostanza, conoscevano bene la crisi in cui versavano le quattro banche di centro Italia e quindi il management ha costretto i lavoratori, gli impiegati a vendere questi prodotti allo sportello. Talvolta probabilmente saranno stati anche venduti a dei clienti che non avevano quella conoscenza o quel profilo di rischio per avere questi prodotti in portafoglio. Facciamo una piccola parentesi per i nostri telespettatori, parliamo di obbligazioni subordinate, spieghiamo un momentino di che cosa si tratta. Le banche per la loro attività di provvista fondi emettono continuamente delle obbligazioni, però queste obbligazioni normalmente hanno un livello di rischio molto basso perché comunque sono dei debiti che le banche in ogni caso, a meno che per l'appunto non falliscono e il loro patrimonio viene totalmente azzerato, in ogni caso restituiscono l'ammontare del prestito sottoscritto al risparmiatore. Nel caso delle obbligazioni subordinate il livello di rischio è più alto, in quanto vengono dal punto di vista della rischiosità assimilate alle azioni che per definizione sono un investimento di rischio. E' chiaro che a fronte di questa maggiore rischiosità si corrisponde un interesse più elevato rispetto alle obbligazioni ordinarie, però è chiaro che queste obbligazioni normalmente per il rischio che rappresentano andrebbero vendute a investitori istituzionali, fondi di investimento, compagnie di assicurazione, altre banche, eccetera. E allora vogliamo subito toglierci il dente, cavato il dente vi è il dolore, ma in Sicilia ci sono in circolazione di queste obbligazioni subordinate? Lo chiediamo a Urzi. Intanto buongiorno, non ho il dono, non guardo nella sfera di cristallo, per cui posso dare una risposta secondo la conoscenza che ho del sistema bancario siciliano da tanti anni seguo. Io credo che fenomeni come quelli delle quattro banche che lei ha ricordato prima in Sicilia non ci siano, però purtroppo abbiamo dei casi, non abbiamo conoscenza di come sia composto il portafoglio obbligazionale azionario di tutti gli istituti di credito, però siccome alcuni riconosciamo bene anche per esperienza diretta, mi sento di dire che il fenomeno così come si è verificato in quelle banche non sia. E questo è rassicurante quanto meno. No, ma tra l'altro dobbiamo rassicurare perché quel fenomeno delle quattro banche, di cui una è alla ribalta della cronaca, per motivi che sono arrivati anche al Parlamento e che tutti conoscono, ha anche una soluzione, nel senso che la mia organizzazione, la First Cheese, ha anche proposto una soluzione, cioè che gli investitori non istituzionali diventino azionisti delle nuove banche. Per rassicurare la clientela, perché quando succedono queste cose, come altre vicende che hanno interessato altre banche molto diffuse sul territorio, c'è il panico e quindi la clientela correttamente. Però abbiamo delle avvisaglie non positive anche di banche che sono collegate a banche, mi riferisco segnatamente alla popolare di Vicenza che attraversa un momento non particolarmente felice, è un fenomeno assolutamente differente, però anche lì erano state emesse le azioni non quotate e quindi ci ricolleghiamo al... Quindi in Sicilia, da questo punto di vista, c'è una situazione più calma. Non c'è un'elevata circolazione di questi titoli. Qui abbiamo i grandi istituti, i grandi gruppi bancari, un credit in tese e poi una serie di banche di credito cooperativo dove in atto non credo ci siano problemi di questo tipo. Licasti, una volta quando uno faceva un investimento in obbligazioni bancarie o in banca in generale, aveva dei depositi in banca, dormiva tra due guanciali. Ora sappiamo che la situazione è cambiata già da ora, ma cambierà a partire dall'anno prossimo con l'introduzione delle nuove normative europee, fortemente volute, dobbiamo dirlo, dalla solita Merkel, dalla Germania, cambieranno perché ci sarà un coinvolgimento di tutti gli attori del sistema bancario, correntisti compresi, correntisti oltre i 100.000 euro di giacenza media, obbligazionisti, l'abbiamo visto, eccetera, eccetera, per un eventuale fallimento di una banca. Quindi il fallimento delle banche non peserà più sulle casse pubbliche, ma se la vedranno direttamente gli attori di una banca, che sono i correntisti, gli obbligazionisti, gli azionisti per definizione. E questo è il meccanismo del bail-in, no? E dico, questo scenario non è un po' preoccupante? Allora, la banca è un'azienda, è un'impresa e come tale dobbiamo anche fare un cambio di filosofia. Noi siamo abitati alle banche che non potevano fallire, non dovevano fallire. Nel secolo scorso il famoso Banco di Roma all'inizio del Novecento fallì e creò tanti problemi nell'economia italiana. Adesso dobbiamo pensare alla banca come un'azienda che può anche non andare bene, può essere anche gestita male perché viene gestita da come. Ci sono certamente dei protettivi. Uno di questo è che i correntisti non possono perdere più dei 100.000 euro, perché questo famoso bail-in garantisce 100.000 euro nei conti correnti. Le somme eccedenti vanno a carico del correntista. Il vero problema è un altro. Il vero problema è che in Italia c'è poca conoscenza della materia economica, della materia finanziaria. Purtroppo i nostri risparmiatori, da una recente indagine proprio dell'ABCE, sono fra i meno colti in materia finanziaria. Siamo al 63esimo posto, assieme a Luganda. Considerando che i paesi europei sono 28, siamo già fuori dall'Europa anche da questo punto di vista. Mi scusi, ma nel nostro piccolo, con questo format soldi e dintorni, contribuiamo in modo microscopico alla diffusione di una cultura finanziaria. Devo dire che anche la Banca d'Italia ogni anno forma decine di migliaia di studenti e anche grossi gruppi bancari nazionali hanno nella propria missione quello di formare i risparmiatori, di formare i giovani e di educarli. È chiaro che senza una conoscenza non ci si può avventurare in prodotti, appunto in strumenti economico-finanziali particolarmente sofisticati e particolarmente a rischio. Non si può acquistare un prodotto, mettere nel proprio portafoglio un prodotto solo perché ce l'ha detto il vicino o l'amico. Senza un'adeguata conoscenza si rischia veramente di mettere i propri risparmi con prodotti non opportuni. In Sicilia ci sono delle... Cioè quali sono i riflessi del salvataggio di queste quattro banche in Sicilia? Ci sono delle conseguenze? Ma al momento apparentemente no. No, immaginiamo che una certa preoccupazione nei nostri risparmiatori questi fatti l'abbiano generata e auspichiamo che proprio la peculiarità del rapporto tra professionisti del settore bancario e clienti che in Sicilia è molto forte a dispetto di quanto ci vogliono fare immaginare e in questo si possa ritrovare appunto serenità e un buon rapporto di tranquillità nella gestione del risparmio in questa terra. A Urzi vorrei porre una piccola riflessione. Lui si è occupato negli scorsi decenni di Sicilcasa, di Banco di Sicilia... Sono anziani. Ma mi viene da fare una piccola riflessione. Alla luce del salvataggio di queste quattro banche che ovviamente sono state salvate creando una bad bank e probabilmente avevano una situazione di bilancio peggiore di quella che aveva la Sicilcasa a suo tempo. Ma la Sicilcasa alla luce di tutto ciò non poteva essere salvata? Una piccola riflessione di 30 secondi. Ma non solo poteva essere salvata ma tutto il proseguio. Cioè io ho vissuto purtroppo da un lato e per fortuna dall'altro perché insomma sono stato partecipe le varie fusioni che hanno interessato il sistema bancario siciliano. Quindi la Sicilcasa che sicuramente aveva come molte altre banche che operano al sud fare credito al sud anche aprire un supermercato. Non è come aprirlo a nord e questo lo sappiamo tutti. Sicuramente in altri tempi c'era un'economia diversa e quindi le cose funzionavano meglio però la cassa di risparmio e tutte le banche del sud hanno avuto dei problemi che erano assolutamente risolvibili. Mi viene da sorridere pensando alle vicende di questi giorni. Sicuramente non c'erano fenomeni come quelli che siamo abituati a leggere ormai ogni giorno sul giornale a vedere in televisione. Mi viene da dire ma siccome le ho vissute, lo dico con cognizione di causa, che lì le dinamiche che hanno guidato prima la fusione cassa di risparmio con il Banco di Sicilia e poi la confluenza del Banco di Sicilia e il gruppo Capitalia, tutto erano tranne che economiche e finanziarie. Questo va detto perché se si fa un esame dei bilanci e delle condizioni economiche a quei tempi non erano giustificate. Oggi c'è una corsa alle aggregazioni che è dovuta al fatto che il mercato è stagnante, c'è la crisi, le banche soffrono, come ha detto qualcuno, sono aziende come tutte le altre, le banche sono le prime aziende, contramente a quello che si pensa, le prime aziende che vanno in crisi quando c'è una crisi. Quindi la Sicilia-Cassa poteva essere tranquillamente salvata, così come il Banco di Sicilia non aveva la necessità, perché conosco i bilanci, lo guardate tutti, di confluire nel gruppo Capitalia, così come andava preservata Capitalia, che comunque aveva un modello federativo e ancora riusciva a riservare, pur essendo un grande gruppo, quell'attenzione al credito locale e la famosa attenzione al territorio di cui tutti oggi parlano, ma che nessuno pratica in buona sostanza. Benissimo, prima di passare alla seconda parte di questa nostra conversazione che estende il nostro ragionamento anche al mercato del credito siciliano, pregherei la regia di mandare in onda la tabella 2. E allora, banca nuova, allarme dei sindacati per il nuovo piano industriale che prevede dei tagli di sportelli, eccetera, eccetera. E allora, i processi di riorganizzazione aziendale che stanno avendo le banche, ha già prodotto in Sicilia degli esuberi, numerosi esuberi, ma attualmente il processo di riorganizzazione vigente, che cosa sta comportando oggi per i lavoratori, per i bancari, cosa ci dobbiamo aspettare? Questo lo chiedo a Licastri. È chiaro che in un momento di crisi le banche vanno in sofferenza, vanno in crisi, perché le banche, come fanno il proprio reddito, raccogliendo il risparmio e impiegandolo. È chiaro che la crisi va avanti da molti anni, il PIL ha perso... Anche se un po' questo modello è saltato, perché le banche si sono spostate molto sui servizi... Sì, però non riescono, non riescono. Il vero problema delle banche è quello del credito deteriorato. Questo è il principale problema. Il secondo problema è quello della informatizzazione delle banche. Il personale, purtroppo, deve essere riconvertito. Ecco perché la nostra posizione, la posizione della Wilka, ma anche di quella delle altre sigle, e gli ammortizzatori che sono stati trovati all'interno del sistema bancario hanno due, prima di tutto, finalità. Una che è quella di riconvertire il personale, e quindi di utilizzarlo in altre attività, in altre mansioni che ormai sono superate. Il cassiere di una volta, la fila agli sportelli, sono immagini che non esistono più. Adesso tutto si fa da casa, tutto si fa online. Questo personale va riconvertito e va utilizzato per seguire questo tipo di servizi, appunto. Il secondo problema è quello di accompagnare, ove fosse indispensabile per momenti di crisi aziendale o riduzione di personale, di accompagnare questi lavoratori, più vicino possibile alla pensione, in un piano di esodo volontario e concordato con i sindacati. Quali sono le criticità dal punto di vista del personale in Sicilia? Quali sono le banche che produrranno nei prossimi mesi esuberi? Sicuramente noi già abbiamo un panorama abbastanza preoccupante da questo punto di vista, anche se appunto gli ammortizzatori sono tutti attivati e si tratterà in buona parte di persone che accederanno a pensione in maniera anticipata e quindi non problemi occupazionali, anche se esiste un problema di occupazione, perché in Sicilia il nostro gruppo, il gruppo Omicrate, non assume adesso da un bel po' di anni e speriamo che questa situazione possa cambiare, perché questa terra ne ha molto bisogno. Noi immaginiamo una buona parte dei nostri colleghi dovranno cambiare il modo di lavorare, purtroppo continuiamo a inseguire le innovazioni che avvengono. L'innovazione dovrebbe essere qualcosa di assolutamente ignoto, magari anche dei tentativi, magari anche sbagliati. Purtroppo noi inseguiamo dei modelli che già sono il passato, non sono nulla di nuovo. Mi riferisco per esempio a grossi investimenti sulla banca telefonica che poco riesce ancora a produrre o su tutto quello che è il mondo di internet che va guardato con grande interesse ma che non deve sostituire la professionalità dei bancari. Quello secondo me è fondamentale. Purtroppo stiamo andando molto velocemente in quella direzione, anche forzando le tappe, anche costringendo i nostri clienti verso i canali evoluti laddove magari non sono ancora molto pronti. Quindi questo potrebbe generare qualche ulteriore problema ma speriamo che il nostro management riesca a cogliere anche i segnali più deboli per gestire al meglio le persone. Ma quali sono le banche che hanno annunciato ai suberi? Sostanzialmente in Sicilia. Ma quali sono? Allora, come è stato detto il problema è un po' generalizzato ma ovviamente le banche che soffrono maggiormente sono quelle che sono composte dalla fusione di diversi istituti di credito. Quindi innanzitutto i grandi gruppi Unicredit in testa Unicredit in Sicilia ricordiamoci che qui insistevano due direzioni centrali di due banche che non sono confluite Cassa di risparmio e Banco di Sicilia per cui ancora scontiamo un po' anche se è diluito negli anni che sono passati questo problema. Per cui abbiamo diverse centinaia di persone che col prossimo accordo che faremo purtroppo ormai una delle attività che ci impegna maggiormente è firmare accordi che riescano come è stato detto correttamente senza intervento pubblico a fare in modo che le persone possano andare anticipatamente in pensione ma che comunque è un costo che le aziende sostengono. Quindi sicuramente Unicredit intesa Montepaschi per vicende anche di altro tipo come ricordava lei Banca Nuova quindi popolare di Vicenza purtroppo a noi non ci aiuta al di là di enunciazioni non è questa la sede io quando sento parlare di zero virgola sorrido perché ho studiato statistica lo zero virgola non è statisticamente rilevante la verità è che la crisi continua a tanagliare tutto il paese e questa regione ancora di più che già partiva in una condizione di svantaggio è ovvio che tutto questo comporta il fatto che complice anche la digitalizzazione che è il nemico numero uno perché ormai c'è la fila prima c'è la fila in agenzia ora c'è la fila gli ATM automatici io non vado allo sportello da tempo immemorabile tanti fanno come lei e per cui ma è ovvio perché ormai basta avere uno smartphone neanche tanto evoluto per poter fare l'80% quindi è una rivoluzione epoca dove sta l'errore l'errore è molto brevemente perché ci vorrebbe più di una puntata è che i nostri banchieri i vertici apicali degli istituti di credito non hanno capito che bisogna investire su servizi alternativi non si può vivere di call center non si può vivere di commissioni una banca non può vivere di commissioni bisogna trovare delle attività alternative che ci sono gestione di patrimoni immobiliari consulenza alla clientela purtroppo anche l'ultimo rinnovo contrattuale i sindacati hanno predicato questo verbo ma devo dire la miopia strategica dei banchieri non l'ha raccolta lì Castri abbiamo accennato a un processo di profonda trasformazione del sistema bancario siciliano che affonda le proprie radici negli anni 80 appunto negli anni 80 il sistema creditizio isolano contava all'incirca 100 banche con sede legale in Sicilia oggi a parte le BCC che saranno non più di una quarantina 105 ora non ricordo esattamente il numero abbiamo due popolari che resistono e poi due banche private che però fanno parte di gruppi nazionali ma in che modo questo ha influito proprio sui processi organizzativi delle banche sì tutte le grandi banche che sono sbarcate in Sicilia o che hanno conquistato la Sicilia in realtà hanno fatto come creato come primo slogan banca del territorio non sempre questo è stato vero servito più per la raccolta che non per gli impieghi in realtà invece una bella funzione sul territorio nei paesi nelle comunità montane le hanno svolte le BCC le banche di reto cooperativo e le piccole le piccole casse rurali queste banche però scontano un problema che è quello della patrimonializzazione avendo poco patrimonio non possono ai sensi di Basilea 3 ovviamente finanziare le piccole imprese perché non hanno i rating sufficienti è chiaro che queste BCC oggi sono in sofferenza l'ha scritto pure il Presidente del Consiglio in un recente suo tweet di quelli che poi fanno moda meno banche di paese più banche per il paese purtroppo queste piccole banche queste BCC devono adeguarsi a una realtà e sono un po' indietro la Germania le ha salvate quelle le ha salvate le sparcasse le banche regionali vengono finanziate dal governo tedesco attraverso poi i soldi dell'Europa e anche dell'Italia per centinaia di miliardi di euro quindi queste piccole realtà locali hanno bisogno secondo me di concentrarsi per poter sopravvivere perché Scusi proprio partendo da questa considerazione giro la domanda a Gallo ma attualmente è in itinere è in cantiere proprio la riforma delle BCC che cosa ci dobbiamo aspettare anche dal punto di vista del personale? Anche questo è facile immaginare che qualche problema qualche ricaduta sul personale inevitabilmente ci sarà anche lì dovremo assistere a processi di riconversione e in questo andrà tutto il nostro sostegno poi anche lì le esperienze precedenti ci danno un po' la traccia però è chiaro che poi le caratteristiche del nostro sistema del nostro territorio avrà appunto delle come dire delle sfumature che potranno essere diverse quindi anche questa è tutta una partita da giocare Molto bene Allora nel sistema creditizio siciliano esiste un microcosmo bancario che è costituito da IRCAC Crias e IRFIS Urzi quale ruolo giocano brevemente perché siamo in chiusura Molto brevemente perché oltre alla chiusura dovremmo affrontare un tema che esuna un po' dall'aspetto finanziario perché diciamo che questi istituti sono stati fortemente condizionati a volte anche dalla regione siciliana con tutti i vantaggi ma voglio dire anche gli svantaggi conseguenti e devo dire ad oggi non hanno una identità ben precisa quindi è assolutamente indispensabile al di là delle persone che oggi rappresentano attenzione che sono sicuramente fanno più che egregiamente il loro lavoro è opportuno che a questi sempre ricamando la crisi che dicevo prima a queste aziende a questi istituti venga dato un ruolo ben preciso che è quello che hanno svolto per anni con vicende e fortune quindi anche lì bisognerebbe metterci mano è da tanto tempo che se ne parla esattamente una risposta breve dopo questi interventi che questa riorganizzazione del sistema creditizio siciliano negli ultimi decenni è cambiato o è peggiorato il ruolo è cambiato in positivo e in negativo il ruolo delle banche siciliane o delle banche nello sviluppo economico dell'isola brevissimamente a ognuno di voi il ruolo delle banche è stato fondamentale in Sicilia fino a qualche tempo albanco di Sicilia era un istituto di credito di diritto pubblico la cassa di risparmio lo era diciamo che può migliorare io ritengo che purtroppo ahimè è un po' peggiorato le decisioni sono prese troppo da postazioni di comando troppo distanti un esempio banalissimo i dipendenti pagano le tasse i dipendenti bancari e le nostre tasse non restano in Sicilia e credo che già solo questo sia un grave danno quindi peggiorato in qualche modo migliorato o peggiorato? è certamente peggiorato e allora purtroppo siamo costretti a concludere questa nostra conversazione con questa notazione non positiva del ruolo svolto dalle banche nello sviluppo della nostra isola e concludiamo ovviamente ringraziando i nostri gentilissimi ospiti che ripeto sono Gallo per la FISAC CGL Licastri per la Wilka e Ursi per la FISAC CGL per la FISAC CGL chiedo scusa ai nostri telespettatori ovviamente va il nostro ringraziamento e li rimandiamo a un prossimo appuntamento grazie per l'attenzione gekommen a un prossimo e con i i i i i i